Una voragine a un incrocio della città di Xinjiang nella provincia orientale di Fujian in Cina inghiottisce un'automobile in transito ma fortunatamente i due occupanti riescono a salvarsi. L'incidente è stato ripreso da una telecamera di sicurezza e mostra l'enorme buco nella sede stradale in cui incappa la berlina bianca. Conducente e passeggero scendono dal mezzo per verificare i danni e solo qualche minuto dopo la vettura si ribalta e sparisce al di sotto dell'asfalto. Le immagini hanno ripreso anche come si è formata la voragine, un mezzo pesante passata infatti dallo stesso incrocio e nello stesso punto nella mezz'ora precedente.